se tornate in paese questi giorni non troverete più nessuna traccia nessun segnale nessun cartello del passaggio di invasioni contemporanee dell'anno scorso tuttavia ci sono tornato con un registratorino perché ero convinto di poter riascoltare quel suono che ci ha profondamente emozionato e questo è quel suono grazie a tutti